Il 18 aprile 2015 morirono più di 900 persone quel giorno e là quel giorno io decisi, insieme con mia moglie e con i miei figli, che l'unica cosa che potevamo fare era aprire la porta e iniziare questa grandissima e bellissima avventura e adesso la porta continua ad essere aperta. L'esperienza della famiglia di Antonio Calò, professore trevigiano, diventa un modello da replicare in sei paesi europei, Italia, Slovenia, Grecia, Cipro, Spagna e Svezia. Nel 2015 Antonio e la moglie e i figli accolsero in casa propria sei giovani richiedenti asilo, avviando un percorso graduale di integrazione. Il modello di accoglienza per richiedenti e rifugiati messo in pratica dalla famiglia Calò ora sta alla base del progetto Embracing, finanziato dall'Unione Europea con 1.900.000 euro per tre anni e Padova è il comune capofile in Italia. In questi giorni i nove partner dell'iniziativa si sono riuniti per la prima volta in città. Sulla base di questa analisi che prenderà verosimilmente quasi tutto l'anno, poi si costruirà un progetto, un modello di accoglienza che sarà replicabile in tutti i paesi. Il progetto segue lo schema di accoglienza 6 più 6 per 6 che prevede 6 migranti ogni 5.000 abitanti e un gruppo di 6 operatori, dal medico allo psicologo, dal mediatore culturale all'avvocato, in grado di seguire 6 gruppi da 6 migranti ciascuno. Calò è diventato cittadino europeo dell'anno e da 4 anni e mezzo considera figli 6 immigrati. Oggi i ragazzi hanno trovato un lavoro, sono indipendenti, chi lavora in azienda, chi in un ristorante, chi invece è diventato saldatore. Tutti insomma sono inseriti. Il progetto Embracing punta a riproporre questo sistema di microaccoglienza ed ha aperto sia alle famiglie che ad altre reti di persone per dimostrare che l'accoglienza può avere anche un impatto positivo. Il tema dell'accoglienza non è un tema che va appiattito solo sulla questione dei profughi. Il tema dell'accoglienza è un tema della vita e secondo me è bellissimo pensare che è il tema fondamentale di tutti noi. Tutti noi sentiamo e abbiamo bisogno di essere accolti.